Domani comincia il ritiro del Teramo, ma in queste ore il diavolo ufficializza l'acquisto di Roberto Ranieri, metronomo proveniente in prestito dall'Atalanta e che nella passata stagione ha giocato con la maglia dell'Alessandria. L'arrivo di Ranieri va a rinforzare la linea centrale perché il ragazzo di 21 anni, di Treviglio, elemento di prospettiva, è con un buon bagaglio già nella categoria. Il centrocampo infatti è il reparto che sta subendo maggiori trasformazioni nelle ore antecedenti del raduno, questo perché Mirko Spighi, rientrato da Catanzaro, sembra rientrare anche nei desiderata di Zichella e a questo punto dovrebbe rimanere quasi certamente in bianco rosso, visto che il suo contratto scadrà solamente il 30 giugno 2019. Sarà lui quindi con ogni probabilità a ricoprire insieme a Lorenzo De Grazie il ruolo di Mezzala nello scacchiere tattico dell'allenatore, senza dimenticarsi di Angelo Persia che dovrebbe arrivare dalla Vezzano. Chi andrà certamente via è Giacomo Tulli, l'esterno ex Sud Tirol, nonostante le aspettative della passata stagione in campionato è rimasto a secco di gol e in generale non sembra aver soddisfatto la dirigenza, che però per sostituirlo non andrà su vittorio esposito. Il giocatore è stato proposto ma per il momento non interessa, anche perché davanti il reparto sembra pieno, anche se Tulli dovesse realmente fare le valigie. Altro partente, pressoché certo, è il difensore Altobelli, che dopo Siracusa sembra pronto a tornare al Sud, direzione Sicula Leonzio, la squadra che finora ha mostrato l'interesse maggiore per il centrale difensivo, che all'occorrenza il Teramo ha utilizzato anche a destra nelle due stagioni passate. Con Tulli e Altobelli, che dovrebbero presto lasciare il diavolo, qualche difficoltà in più invece ci sarà per Riccardo Barbuti, che vorrebbe giocarsi le sue possibilità con Zichella. Anche lui ha il contratto in scadenza 2019, ma il problema è che il Teramo i sostituti li ha già comprati, a differenza di quanto ha fatto per la linea mediana. Questo crea un problema di esuberi in quella zona di campo che dovrà presto essere analizzato. Nel frattempo domani si parte per il ritiro in casa. Tre finora gli appuntamenti amichevoli programmati. Si comincia a martedì 24 luglio a Cascia contro il Benevento di Cristian Bucchi. Due giorni dopo il 26 appuntamento a Palena per la sfida classica con il Pescara. Infine il 2 agosto, pochi giorni prima dell'avvio ufficiale della stagione con la Coppa Italia che scatta il 5, la sfida sarà al Bonolis contro la San Giustese.